Maxi sequestro di pesce avariato in uno stabilimento abusivo di Menfi, la Guardia di Finanza ha sequestrato 5 tonnellate di prodotti ittici, crostacei e pesce sciabola, denunciato il titolare anche per personale non in regola. Firmato il contratto tra Società Terme di Sciacca e Regione Siciliana, primo passo per la cessione al Comune, stasera intanto la vicenda Terme con la mozione dei 5 Stelle e al centro del dibattito in Consiglio Comunale. Primo confronto ieri sera tra amministrazione e carristi per verificare la disponibilità a partecipare alla prossima edizione della festa, l'ex assessore Monte ritiene che sia un passo indietro ad aver abolito il doppio fine settimana. Torna l'emergenza rifiuti a Sciacca, da oggi la SAM, Sistemi Ambientali, ha bloccato tutti i servizi resi alla Sogeir, dalla selezione della differenziata al trito vagliatore in funzione alla discarica, ritiro dei rifiuti indombranti. Celebrato questa mattina anche al carcere di Sciacca il bicentenario della Fondazione della Polizia Penitenziaria, agenti in prima linea nel contrastare anche l'allarme terrorismo, visto il numero di detenuti extracomunitari. Teatro e solidarietà domani sera all'auditormi di Contrada Marchesa Sciacca, la rappresentazione di Lio Ladi Lio di Luigi Pirandello e di Cavato sarà devoluto all'associazione Soccenze e crescerà insieme. Un cordiale saluto. In apertura la cronaca, max sequestro di pesce avariato in uno stabilimento abusivo di Menfi, denunciato il titolare, è sequestrati 5 tonnellate di prodotti ittici, in prevalenza crostacei e pesce sciabola. L'operazione è stata messa a segno dalla Guardia di Finanza di Sciacca. Ci racconta il servizio nei particolari. 4.700 kg di pesce avariato che stava per essere immesso sul mercato è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Sciacca all'interno di uno stabilimento di Menfi. L'attività investigativa era finalizzata a reprimere il fenomeno del ricorso alla manodopera irregolare. All'interno dello stabilimento di soccaggio e lavorazione del pesce completamente abusivo venivano impiegati 5 dipendenti in nero. Al momento dell'accesso presso la sede della ditta Le Fiamme Gialle, valendosi anche di personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Agrigento, hanno riscontrato numerosi dipendenti intenti alla lavorazione di varie tipologie di prodotti ittici destinati al mercato locale, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie e in violazione di ogni benché minima norma in materia di sicurezza alimentare. Gli accertamenti condotti hanno permesso di rilevare la presenza di circa 5 tonnellate di prodotti ittici stoccati e lavorati per la successiva rivendita, con prevalenza di pesce sciabole e crostacei, in cattivo stato di conservazione, oltre che privi di riferimenti circa la loro provenienza. Circostanza quest'ultima ulteriormente aggravata dalla continua violazione della normativa sanitaria vigente e con possibili gravi ripercussioni sulla salute pubblica, considerato il fatto che da analisi di laboratorio è stata riscontrata la presenza del parassita Anisakis, con specifico riferimento al pesce sciabola. L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, si è conclusa con la denuncia a piede libero del titolare dell'azienda Alberto Sabella di Menfi e con il conseguente sequestro dello stabilimento di lavorazione e di oltre 4.700 kg di prodotti ittici. Oltre alle eventuali conseguenze di natura penale, la pena prevista per tale condotta è infatti l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino ad un importo massimo di 30.000 euro, il titolare dell'attività commerciale dovrà farsi carico delle spese di distruzione dell'intero quantitativo di pesce sequestrato, oltre a sostenere le sanzioni per aver utilizzato personale non in regola con gli obblighi di assunzione. Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha condannato a due anni di reclusione e 800 euro di multa i romeni Razva Giovano, di 27 anni, e Costel Vasilasce, di 29 anni. I due erano accusati di aver messo a segno sei furti in pochi giorni e in altre tante abitazioni tra Santa Margherita, Belice e Montevago. I colpi vennero messi a segno nell'ottobre dello scorso anno e consentirono di portare via elettrodomestici ed attrezzi agricoli. Delle indagini arrivate alla identificazione dei presunti autori si sono occupati i carabinieri. I due imputati hanno beneficiato della riduzione della pena prevista dal rito abbreviato. Vertice sul Carnevale. Ieri sera al Comune di Sciacca confrontarsi l'amministrazione e alcuni operatori della manifestazione a cui sono state sottoposte le modifiche in vista della prossima edizione. Vediamo quali. Quella di ieri sera all'interno della Sala Giunta del Comune di Sciacca è stata la riunione organizzativa preliminare in vista della prossima edizione del Carnevale. A presiederla il Sindaco Francesca Valenti e l'Assessore al Turismo Filippo Bellanca. Seduti attorno a un tavolo alcuni degli operatori della manifestazione ai quali l'amministrazione ha sottoposto i propri orientamenti in vista della festa in maschera edizione 2018. A partire dalla soppressione del doppio fine settimana di sfilate. Decisione utile non solo a risparmiare economicamente ma anche, secondo quanto riferito da Bellanca, ad andare incontro alle stesse esigenze del mondo della scuola che già con due tornate elettorali regionali di novembre e le politiche di aprile costringerà gli alunni a perdere diversi giorni. I carristi ieri hanno preso atto delle decisioni dell'amministrazione di ridurre il numero di carri partecipanti di uno per riaprire le porte ai minicarri, in particolare due. I carri di categoria A, come si chiamavano una volta, saranno dunque cinque. Si è poi parlato del bando che giocoforza sarà pubblicato senza bilancio di previsione approvato e dunque senza copertura finanziaria. Si è parlato anche di servizi da affidare all'esterno. L'ottica generale è quella di spendere meno anche se inevitabilmente l'edizione 2018, visti i tempi, non potrà discostarsi più di tanto da quella di quest'anno. Però non pensa che già, levando la settimana, molta gente si possa ricredere e dire beh, da lì, ci stanno pensando per risparmiare con le mani di sciarca e che quindi potremmo restare con le somme. Tu sai meglio di me che la macchina del carbapare con la settimana in meno cambia pochissimo perché tutti in una serie di meccanismi di meccanismi, ma di poco, ma molto poco, perché in una serie di meccanismi sono per la testa inglese, o è tre giorni, o è sei giorni che lo sai meglio di me perché tu la vieni. Sicuramente troveremo la soluzione per abbattere i costi, non è che non la troveremo, l'abbiamo già trovata. Che non è per accontentare un'altra parte di persone, è pure legato al fatto che comunque in questo momento, questo posto così, non voi, non siete voi la maestra, non è quello il problema, perché poi il costo, questo incide, non incide anche tanto altro. Tanto altro, cioè noi non ce lo possiamo permettere. Una manifestazione che torna alle tradizioni, hanno detto Filippo Bellanca e Francesca Valenti. Le maestranze presenti alla riunione di ieri sera hanno preso atto delle novità sottoposte dall'amministrazione, garantendo la propria disponibilità a collaborare, anche se i presenti non hanno nascosto la propria delusione per la soppressione del doppio weekend. Naturalmente ci saranno altre riunioni per parlare del prossimo carnavale, un tema che interessa moltissimo l'opinione pubblica saccense, come dimostrano peraltro le migliaia di visualizzazioni accumulate sui nostri articoli sulla festa. Benvenga il ritorno dei minicarri, sono perplesso per la soppressione del secondo fine settimana, idea che andava incontro alle esigenze degli albergatori. Questo è il commento di Salvatore Monte, ex assessore al turismo, in vista delle novità per la prossima edizione. Sentiamolo. Consigliere Monte, cosa pensa delle novità che stanno venendo fuori in merito alla prossima edizione del carnavale? Sulla vicenda minicarri credo che sia una scelta anche di carattere prettamente artistico, quindi se l'amministrazione ha voluto elevare magari un carro allegorico ai due minicarri è una scelta per carità che va rispettata, è una scelta chiara, io l'avevo eliminata a tempo ma già nel 2011 perché credo che i carri di fasciati hanno sicuramente un tocco un po' diverso, però se vogliono essere inseriti credo che sia una scelta di essere assolutamente rispettata. Sul doppio fine settimana invece mi trovo contrario perché quando a tempi l'assessore Enni mi propose di aggiungere un fine settimana credo che l'indirizzo era quello di rivolgere un ulteriore supporto a tutte le strutture ricettive e all'economia della città che chiaramente ora si concentrano in un unico fine settimana, sottolineando sempre che il tempo speriamo sia sia appena evoro. E in vista di questa manifestazione lei ha delle preoccupazioni particolari? Ma io preoccupazioni non ne ho perché sto notando ma ancora presto per dirlo che comunque l'amministrazione sta lavorando sul solco di un lavoro che comunque avevamo portato avanti noi, non sto vedendo grandi modifiche e la grande notizia della giornata di ieri ma questo aspetto conferma e sapere che probabilmente il bando uscirà con quella riserva legata all'approvazione del bilancio è stato momento di attacco politico nei nostri confronti dall'allora opposizione e oggi maggioranza, quindi significa che alla fine quando si amministra si deve andare incontro a qualsiasi decisione purché le cose si possano fare, ma questa è una discussione che voglio fare poi successivamente. Torna a riunirsi stasera il Consiglio Comunale di Sciacca sotto i riflettori la vicenda delle terme di Sciacca e la contrapposizione tra la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire a un tavolo tecnico politico allargato e le associazioni in vista della futura gestione di parte del patrimonio da parte del Comune. Il centrodestra oggi chiede l'attivazione della diretta televisiva, intanto il deputato regionale Mangiacavallo ha reso noto il contratto tra la società a terme di Sciacca e S.P.A. e la regione siciliana. Ci dice tutto Massimo D'Antoni. È stato oggi il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo a inviare alla stampa il documento ufficiale che stabilisce il trasferimento compensativo dalla terme di Sciacca e S.P.A. in liquidazione alla regione siciliana del patrimonio termale. Porta la data di mercoledì 13 settembre, a firmarlo Carlo Turriciano da una parte, i funzionari Gaetano Chiaro per il Dipartimento delle Finanze e del Credito e Luciana Giammanco per il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. È questo il primo atto propedeutico al successivo conferimento dalla regione al Comune, tra i beni in usufrutto trentennale e quelli con disponibilità totale, l'elenco ufficiale è quello che tutti conoscono e tene conto del credito vantato dalla regione di quasi 6 milioni di euro. Oggetto del trasferimento sono dunque lo stabilimento termale di Via Agatocle, il Grand Hotel delle Terme, l'ex convento di San Francesco, le vecchie terme selinuntine della Valle dei Bagni, il Parco delle Terme e le annesse e piscine sul furee coperte. Non ci sono come previsto l'ex motelagip, le piscine molinelli, gli alberghi del Monte Cronio, le stufe vaporose. Questione questa al centro dell'attenzione, come è noto e sotto riflettore del dibattito politico nell'ambito della controversia sul celebre spezzatino. Nel frattempo, col valore dei beni ceduti, il debito non si azzera, mancano infatti all'appello almeno 90.000 euro per chiudere il cerchio. Suscita sicuramente curiosità il valore monetario attribuito a ciascun immobile. Se lo stabilimento vale quasi un milione e mezzo di euro, il Grand Hotel viene valutato oltre un milione e 800 mila euro. L'ex convento di San Francesco pare che valga un milione di euro circa, mentre le antiche terme superano di poco i 126 mila euro di valore, mezzo milione di euro il valore attribuito al Parco delle Terme, mentre le piscine sul furee valgono almeno un milione di euro. Stasera di Terme si parlerà intanto in Consiglio Comunale a Sciacca, nell'ambito della mozione del Movimento 5 Stelle, con cui è stata chiesta l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per gestire la fase delle responsabilità in capo al Comune, non appena sarà effettuato il trasferimento di una parte dei beni. Proposta alla quale si contrappone quella della maggioranza, che intende invece puntare sull'istituzione di una commissione consigliare speciale, all'interno della quale si intendono definire le linee generali e quelle specifiche rispetto alla gestione e alla predisposizione dello stesso bando per l'individuazione di un partner privato che si attende dal 1999. Questione su cui si sa che i gruppi consigliari del centro-destra hanno già annunciato che sosterranno la proposta pentastallata, essendo questa allargata alle associazioni. Questione questa che però rischia anche di passare in sordina nei confronti dell'opinione pubblica, perché i lavori non saranno trasmessi in diretta televisiva. Ed è in tale direzione che Alternativa Popolare, Forza Sciacca, Sciacca al Centro e Progetto Sciacca hanno chiesto l'attivazione del servizio al fine di garantire una maggiore e chiara informazione su ciò che verrà trattato in aula. Gruppi di opposizione che poi chiedono anche comunicazioni al sindaco Valenti, sia sulla imposta di soggiorno, in considerazione dell'aumento recentemente deciso, sia sulle criticità legate al pronto soccorso e la visita di ieri a Sciacca del commissario provinciale dell'ASP, Gervasio Venuti. Ospedale di Sciacca a rappresentare oggi la grave carenza di personale medico-infermeristico e Andrea Labarbera, ex amministratore comunale di Ribera, ricoverato presso l'unità operativa di nefrologia e dialisi del Giovanni Paolo II, ha avuto modo di costatare personalmente i turni massacranti in cui sono sottoposti gli infermieri in servizio. Labarbera questa mattina si è rivolto alla nostra redazione ritenendo importante evidenziare il punto di vista di un paziente. Nonostante la carenza di personale sanitario all'ospedale di Sciacca sia un problema tristemente noto e del quale la nostra emittente si occupa quasi giornalmente. Un reparto efficiente, ha tenuto a precisare, con personale medico-infermieristico molto qualificato ma che lavora in condizioni disumane. In servizio ci sono solo 5 infermieri per tutto il reparto, situazione che questa mattina Andrea Labarbera ha rappresentato al direttore sanitario della struttura Gaetano Migliazzo. Torna in primo piano l'emergenza rifiuti a Sciacca e negli altri comuni dell'ambito territoriale. Da oggi la ditta SAM Sistemi Ambientali ha sospeso il servizio di selezione dei rifiuti prevenenti dalla raccolta differenziata ma ha anche bloccato il trito vagliatore alla discarica di Contrada Selinelli. Servizi resi alla Sogeir che nonostante le promesse non ha ancora proceduto alla liquidazione delle spettanze alla ditta. Sentiamo. Attività sospesa a partire da oggi e torna all'emergenza rifiuti a Sciacca. La ditta SAM Sistemi Ambientali è passata dalla minaccia alla decisione di bloccare tutti i servizi resi alla Sogeir. Parliamo dell'attività di selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ma anche del servizio di trito vagliatura presso la discarica di Contrada Saraceno Selinella e del prelievo, trasporto e avvio al recupero dei rifiuti ingombranti. L'azienda è al collasso con dipendenti in rivolta perché attendono il pagamento di 5 mensilità. Situazione legata al fatto che la SAM vanta consistenti crediti nei confronti di Sogeir che nonostante le promesse non ha ancora proceduto ai versamenti. Ci hanno costretti ad assumere questa drastica decisione hanno dichiarato oggi i titolari della SAM Sistemi Ambientali che già da alcune settimane minacciavano di passare alla protesta e al blocco dei servizi. Una situazione certamente non nuova che si trascina da anni e che ha spesso generato disservizi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti sia a Sciacca sia negli altri comuni dell'exato Agrigento 1. Una grana nelle mani del commissario di Sogeir, Gueli, il cui mandato scaduto proprio nei giorni scorsi è stato prorogato al 30 ottobre. La capacità di Sogeir di far fronte ai pagamenti nei confronti dei fornitori su tutti la SAM SRL è a sua volta pesantemente condizionata dai comuni che hanno accumulato consistenti debiti nei confronti della società. Anche il comune di Sciacca, cheppure hanno verato tra quelli virtuosi, non è in regola con i versamenti. Ma il problema è che a piangere le conseguenze di questa sorta di scarica barile sono i cittadini che pagano regolarmente la tassa rifiuti. L'aumento dell'imposta di soggiorno da gennaio 2018 ma non spaventa i diversi titolari di B&B della città. Da 50 centesimi ad un euro hanno dichiarato alla nostra redazione cambia poco per il turista. Quello che deve cambiare hanno sottolineato l'utilizzo dei proventi dell'imposta. Sentiamo. Imposta di soggiorno. Mentre l'aumento è liberato dal sindaco Valenti con un'apposita determina acceso alla polemica con l'opposizione critica sulla mancata concertazione della scelta con il Consiglio Comunale, non sembrano così contrari i titolari di diversi B&B della città di cui abbiamo raccolto alcune dichiarazioni. Per queste strutture ricettive l'importo dell'imposta passerà da 50 centesimi ad un euro, un aumento che poco influisce, hanno dichiarato alcuni titolari di strutture ricettive alla nostra redazione. Spesso affermano non chiediamo nemmeno di lasciarci l'importo, siamo noi a versarlo senza farlo gravare sugli ospiti, soprattutto quando si tratta di turisti di passaggio che si fermano per poche notti. Si tratta di una tipologia di turisti abituata a pagare l'imposta in tante altre città dove in vigore hanno sottolineato i proprietari di B&B da noi raggiunti. Quello che deve seriamente cambiare, hanno evidenziato tutti quelli che abbiamo incontrato in maniera unanime, è l'impiego dei proventi dell'imposta di soggiorno che devono essere impiegati non certo per un'unica e sola manifestazione l'anno, ma per creare servizi al turista. Decoro, immagini e pulizie in una città che per essere turistica deve meglio presentare gli spazi che gli ospiti attraversano e vivono nel loro soggiorno, così come i servizi da offrire, le strade, i collegamenti, i mezzi. È ciò a cui si deve puntare e a cui deve servire l'imposta di soggiorno. Questo tra tutti il parere di un titolare di B&B. Giustamente ci sarà un aumento da 50 a 1 euro, 50 centesimo di 1 euro a persona e giustamente inciderà per tutto l'intero anno. Si spera, parlando con tutte le altre strutture recettive, abbiamo parlato assieme e si spera che questi soldi vengano giustamente spesi bene per la pulizia della città. I vostri clienti nel momento in cui devono pagare questa imposta si trovano resti o magari sono abituati a farlo anche in altre città e non li tocca quasi. Allora, sono abituati a pagarle nelle altre città, però ci sono un po' resti sono i rappresentanti perché andare a pagare quei 50 centesimi per una notte che stanno a volte creano qualche piccolo malumore. Adesso passano ad 1 euro? Sicuramente, quindi vedremo il prossimo anno cosa succederà. Celebrato anche a Sciacca questa mattina il bicentenario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria. La cerimonia si è svolta all'interno del carcere di via Pietro Gerardi alla presenza delle autorità cittadine. Un momento non solo di esaltazione ma anche di riflessione sul delicato ruolo svolto dagli agenti di polizia penitenziaria. Istituti di pena su cui adesso incombe la minaccia terrorismo visto l'elevato numero di detenuti extracomunitari. Sentiamo. È stato celebrato anche a Sciacca questa mattina il bicentenario della polizia penitenziaria. La cerimonia si è svolta all'interno del carcere, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città. 200 anni che onorano il nostro passato, il nostro presente ma anche il cammino futuro che ci attende, ha dichiarato il comandante della polizia penitenziaria di Sciacca Aurora Mirabile. È un momento importantissimo che oggi stiamo condividendo con illustre autorità ma anche con il personale in quescenza, con i familiari tutti perché deve essere un momento di ritrovo, di condivisione, di un momento davvero davvero importante per il corpo di polizia penitenziaria che in questi 200 anni ha subito una grande evoluzione, un grande cambiamento, una grande maturazione. Si è passati dagli agenti di custodia che semplicemente avevano il compito di vigilare e custodire a vera e propria forza di polizia. Quindi ai classici compiti istituzionali si aggiunge anche il compito della prevenzione e del contrasto dei reati che possono essere commessi all'interno dell'istituto. Un momento anche di riflessione sulle condizioni in cui sono costretti ad operare gli agenti di polizia penitenziaria. Non a caso a livello nazionale le celebrazioni sono state accompagnate dalla protesta dei sindacati che chiedono un piano di nuove assunzioni, un adeguamento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro, ma anche più sicurezza e adeguati strumenti per garantire l'incolumità dei poliziotti penitenziari. Si parla di 8 mila unità di cui avrebbe bisogno il corpo a livello nazionale. A Sciacca l'organico è ridotto indubbiamente, questo è saputo anche da altre autorità che nell'anno si sono succedute qui. Abbiamo avuto diverse visite anche dal nostro capo del dipartimento. però ripeto, il piangersi addosso non è giustificabile. Il reparto di Sciacca lo sa, si adopera, fa di tutto per riuscire a garantire i nostri servizi. Quanti sono i detenuti al momento presenti qui in questa struttura? Al momento sono 61 detenuti, è prossima anche l'assegnazione di altri, poiché è stata completata la ristrutturazione di una sezione, quindi adeguata secondo il DPR e quindi per il miglioramento delle condizioni detentive. Si stima una capienza intorno agli 88-90 detenuti. C'è un nuovo allarme che adesso preoccupa gli istituti penitenziari, anche quelli considerati piccoli come il carcere di Sciacca. Dottore Belfiore, l'allarme terrorismo in che misura preoccupa anche all'interno del carcere di Sciacca? Beh, il carcere di Sciacca così come tutti gli altri istituti della Repubblica sono molto sensibili al tema, un tema molto attuale come sappiamo, perché c'è un fenomeno di radicalizzazione che può accadere anche dentro gli istituti. Per quanto l'istituto è piccolo però ospita anche extracomunitari come sappiamo, quindi non si sottrae a questa possibilità teorica, però devo dire assolutamente teorica, per cui lavoriamo molto sulla prevenzione e anche su un fenomeno di deradicalizzazione, ovvero in caso di detenuti individuati come potenziali radicalizzati si lavora per un lavoro di recupero e quindi di deradicalizzazione. Carcere di Sciacca il cui mantenimento insieme al Tribunale a volte viene messo in discussione, ma è il Procuratore della Repubblica, Roberta Buzzolani, ad assicurare che non esiste alcun pericolo. Al momento sia il Tribunale, gli uffici giudiziari che il carcere non sono all'attenzione dell'agenda del Governo in termini di possibile chiusura, anzi recentemente quando in occasione dell'insediamento del Presidente del Tribunale c'è stata la visita del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che anzi vorrebbe portare avanti un progetto per la nuova realizzazione di un nuovo carcere a Sciacca. Di importante presidio di legalità ha parlato il Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Il Tribunale e il carcere indicano la presenza dello Stato nel nostro territorio e questo non è soltanto di sostegno nella lotta contro la criminalità e quindi nell'esecuzione, nella corretta esecuzione della pena come presidio di legalità, ma è anche un segnale forte della presenza dello Stato nella nostra città e quindi sono dei presidi che devono essere tutelati e garantiti. La cerimonia si è conclusa con una dimostrazione del nucleo antidroga della Polizia Penitenziaria eseguita dagli agenti con l'ausilio di una unità cinofila. Solo disagi e nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito a seguito del crollo di un grande ramo d'albero lungo la provinciale Montallegro-Ribera. Il traffico che era rimasto prima bloccato e poi rallentato a causa del senso unico alternato è ripreso regolarmente nella tarda mattinata dopo che il ramo è stato rimosso. Sono trascorsi vent'anni dalla morte di Giovanni Fazio. Il vigile urbano s'accense ucciso da mano rimasta ignota il 21 settembre del 1997. Una vicenda drammatica che ancora oggi grida vendetta visto che lo Stato non ha mai individuato i responsabili. Sentiamo. Messa solenne alla matrice alle 9 e poi alle 10 nel piazzale dell'ex motelaggi, pattuale sede del comando di polizia municipale, la commemorazione. Sono trascorsi vent'anni dall'omicidio di Giovanni Fazio, il sacenze agente della polizia municipale di Palma di Montechiaro, ucciso da mano ignota la sera del 21 settembre del 1997. Vent'anni nel corso dei quali i familiari e gli amici di Giovanni hanno atteso in vano la verità su quella tragedia. Un'attesa che non è finita. Chi è il killer che lo attese sotto casa, dove la gente stava rientrando dopo un servizio serale, sparandogli due colpi di pistola e uccidendolo sul colpo? Una risposta che purtroppo non è mai arrivata. Lo Stato non è riuscito a consegnare alla giustizia l'assassino o gli assassini. Giovanni aveva appena 36 anni. Lasciò la moglie, l'insegnante Antonella Montalbano e il figlio Michele, che oggi ha 25 anni. Era una gran persona per bene Giovanni, amico di tutti, sempre col sorriso sulle labbra e non sono parole di circostanza. Chi lo ha conosciuto sa benissimo quanto fosse disponibile e rispettoso dei valori, dedito al lavoro e alla famiglia, ligio al suo dovere. In questi vent'anni c'è chi ha continuato ad avere le mani sporche di sangue, ma probabilmente c'è stato anche chi ha avuto la coscienza non del tutto linda. Chi uccise Giovanni? Perché fu necessaria quell'esecuzione così barbara? Domande alle quali non c'è ancora una risposta. E questo in uno Stato di diritto non è accettabile. In memoria di Giovanni Fazio, negli anni passati, il comune di Sciacca intitolò il comando della sua polizia municipale. Il ventennale dalla scomparsa sarà commemorato sia a Palma di Montechiaro sia a Sciacca. È stata una perdita quella di mio marito, alla quale naturalmente non mi sono mai rassegnata. Così Antonella Montalbano, moglie di Giovanni Fazio. Sono orgoglioso, ha detto il figlio Michele, che lo Stato abbia riconosciuto mio padre come vittima del dovere. Il momento di quell'omicidio naturalmente rimane il mistero tra i misteri. Antonella Montalbano non esclude che il marito abbia potuto pagare con la vita qualche provvedimento d'ufficio da lui eseguito nell'ambito della lotta nei confronti dell'abusivismo edilizio. Torna in scena domani sera alle 20.30 presso l'auditorium della Marchesa la rappresentazione teatrale Liola di Luigi Pirandello organizzata dalle associazioni insieme per gli altri in Revuil e Rotary Club. Sul palcoscenico in massima parte i componenti di questi club service. La finalità è benefica e ricavato infatti sarebbe voluto all'associazione crescere insieme. Vediamo Massimo D'Antoni. Questa è la seconda volta che voi proponete la rappresentazione Liola di Pirandello per scopi benefici. Ci vuole parlare di questa iniziativa? Allora, il 4 luglio abbiamo dato per la prima volta Pirandello. Io faccio parte del gruppo Insieme per gli altri. È un gruppo che si interessa di volontariato. Cerchiamo di aiutare le famiglie ben fortunate di noi. Soprattutto dando dei buoni pasto sia alla chiesa di San Pietro sia a quella di Loreto. Il 4 luglio abbiamo non solo fatto questi 30 buoni pasto ma anche abbiamo fatto una grattugia per la menza e delle zanzariere perché mancavano. È una rappresentazione in cui vi siete messi tutti in gioco, si può dire questo? Certamente. Poche parole abbiamo scelto Pirandello perché è l'anniversario della sua nascita, il 28 giugno, i 150 anni dalla nascita. Allora abbiamo deciso di fare questa esperienza piuttosto gravosa però con l'aiuto del Signore ci siamo riusciti. Parliamo un po' di questo testo, professoressa Liola, che è uno dei testi più brillanti di sicuro gradimento per il pubblico e quindi la scelta è stata mirata. Abbiamo preferito il testo in dialetto per diversi motivi. Non ultimo quello di non lasciare ignorato il dialetto che ormai i nostri ragazzi non conoscono completamente. Certo, essendo un testo dei primi del Novecento e soprattutto in dialetto agrigentino abbiamo dovuto togliere qualche frase, qualche vocabolo che ormai purtroppo non è più comprensibile. Però abbiamo visto che il testo è stato capito, gradito e anche la capacità di suscitare la risata è stata anche più efficace. Questa iniziativa si avvale della collaborazione di diversi club service, di associazioni e c'è anche Inner Whale. Ci parli un po' di questa vostra associazione? Sì, l'Inner Whale è sicuramente un club service a livello mondiale più famoso degli altri. Come obiettivi si promuove ideali di vera amicizia sia nazionale che internazionale ovviamente ma soprattutto il service, promuovendo ideali di servizio individuale soprattutto. E proprio in quest'ottica noi ci siamo associati all'associazione di Graziella per aiutare anche perché il tema internazionale per i tre anni è una vita più felice, una vita migliore per tutti. Un commento da parte sua su questa iniziativa e anche sul valore sociale di questa iniziativa? È un'iniziativa importantissima. Il valore sociale è altrettanto. L'obiettivo è proprio quello di aiutare un club, un gruppo che sta cercando di realizzare una palestra per i disabili. Quindi è un obiettivo importantissimo crescere insieme. E quindi noi in quanto club service vogliamo aiutarli per quello che possiamo. Ricordiamo che oltre alla vostra associazione Insieme per gli Altri, a Inner Wheel, c'è anche il Rotary. Sì, c'è anche la collaborazione del Rotary, il presidente Franco Raso. Abbiamo l'appuntamento per domani sera allora. Sì, e domani sera senz'altro sarà presente con noi. Alle 20.30 il Contrada Marchese, istituto Amato Vetrano. Ribera, pericolosa la rotonda all'incrocio tra via Circonvallazione e Via L'Italia nei pressi dell'ospedale Parlapiano. Ci giunge segnalazione che la rotonda sia da mesi al buio. Un disagio per gli automobilisti e per le ambulanze del 118 che spesso vi transitano. A questo va ad aggiungersi la mancata potatura degli alberi che ostruiscono la vista dei segnali stradali. Al buio anche lo svincolo per Caltabellotta sulla Statale 115. Tali segnalazioni sono state inoltrate dal sindaco di Ribera e al presidente del Consiglio Comunale in attesa di conoscere le ragioni di queste condizioni di pericolo. Sono in pagamento i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, beneficio che viene concesso alle famiglie di studenti aventi diritto che hanno frequentato le scuole medie e le scuole superiori nell'anno scolastico 2014-2015. Lo ha comunicato oggi l'assessore alla pubblica istruzione Annelisa Longi. Il contributo si riscuote presso qualsiasi sportello bancario dell'Unicredit, tesoreria del Comune di Sciacca. I beneficiari debbono presentarsi con un documento di identità e codice fiscale. Scade il 30 settembre l'adesione e rinnovo al marchio DOP da Arancia di Ribera e al Consorzio di Tutela. Produttori e confezionatori dei 14 comuni aderenti potranno quindi iscrivere il proprio grumeto o il centro di lavorazione nell'elenco ufficiale della DOP entro il 30 settembre. Per tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP di via Quasimodo. Adesso lo spazio alla Mondadori. Una cena al ristorante, una sosta notturna in una piazzola lungo l'autostrada. È un bambino di 11 anni, Michele Ludovisi, che scompare dall'auto dei genitori. L'assenza di segni farebbe pensare un rapimento, ma il commissario Strigio sa che deve lasciare spazio a tutte le ipotesi, scavare negli angoli bui di vite apparentemente tranquille. Lo sa perché anche la sua nasconde molte zone oscure, dall'omosessualità vissuta nell'ombra a un rapporto burrascoso con il padre, che sta per raggiungerlo a Bolzano, con una notizia terribile. Ma si sa, tutti hanno i propri segreti, come Nicola, il padre di Michele, con le sue numerose amanti, o l'insegnante di Michele, vittima di uno strano suicidio. Poi c'è Leo, il compagno del commissario. Cosa ci faceva la sua macchina nel parcheggio del ristorante, in cui si sono fermati i Ludovisi, proprio alla notte della scomparsa del bambino? Domande, domande, domande. Lo scioglimento del mistero arriverà imprevedibile. Alla fine di un noir, intriso di ombre e denso di sentimenti e di passioni. Del dirsi addio, di Marcello Fois, edizione e in Audi. Scherma torna in pedale il discopolo di Sciacca. Ad ottobre il primo impegno agonistico della nuova stagione, con gli assoluti di sciabola femminile, che vedrà impegnata Siria e Mantegna già nel girone del nazionale azzurra. Il nostro obiettivo stagionale è quello di restare in Serie A1 e magari di piazzare sul podio qualche nostro atleta negli assoluti. Afferma ai nostri microfoni il maestro Pippo Simone Bullo. Sentiamo. Mantenere la Serie A1 di sciabola femminile e piazzare magari qualche atleta sul podio in una delle gare degli assoluti. Questo è l'obiettivo ed è il discopolo di Sciacca, che si appresta a cominciare la nuova stagione agonistica, sia con la squadra maschile, sia con quella femminile. Primo impegno ufficiale ad ottobre con gli assoluti di sciabola femminile. Ai nostri microfoni il tecnico Pippo Bullo. Le aspettative sono le solite. Fare una bella stagione, rimanere nella massima serie, visto che l'anno scorso abbiamo conquistato la Serie A1 con la sciabola femminile. E chiaramente soprattutto portare sempre i ragazzi, il nome di Sciacca sempre più in alto, nei gradini più alti del podio. Questa è la nostra ambizione. Per quanto riguarda le due squadre, quella maschile e quella femminile, sono organici confermati o rinnovati? L'organico è confermato, sia che maschile che femminile. Abbiamo qualche piccola defaglianza nella femminile per un'infortunio importante che ha corso a fine stagione a Caroline, quindi siamo così un po' in attesa del suo recupero. Però le formazioni sono confermate perché di meglio non abbiamo. Quali saranno le prime gare in vista? Prima gara a ottobre per la sciabola femminile, gara assoluta, chiaramente vedrà la nostra punta di diamante che si rimantegna alla conferma in una gara degli assoluti. Quindi questo ci permetterà comunque di confrontarci con le più grosse società e di vedere e più che altro verificare a che punto siamo dopo che ci siamo lasciati dietro le spalle della scorsa stagione. La gara più importante che vi attende durante questa stagione? Quella a cui il maestro Vullo tiene particolarmente qual è? Ma non ce n'è una in particolare. Certo, fare un po' di una gara assoluta significa tanto. Significa tanto perché lì subentrano dei meccanismi. Faccio un esempio, se questa gara agli assoluti dovesse essere di una nostra giovane atleta significa perché noi abbiamo tutte ragazze a quanto giovani escluso Maria Andrè, Simone Vullo che ha 24 anni ma si allena poco per il lavoro che ha tutti quelli che sono sotto di lei sono tutti ragazzi ancora giovani non fanno parte della categoria assoluti partecipano agli assoluti perché hanno appunto le qualità, si qualificano. Quindi un po' degli assoluti per una giovane ragazza significa sicuramente essere attenzionata a un gruppo sportivo militare e entrare in un gruppo sportivo militare significa fare parte di una lista d'elite e magari trovare il proprio futuro lì. L'intervista integrale con il maestro Pippo Vullo andrà in onda nell'ambito di uno speciale RMK Notizie. Siamo in chiusura per questa edizione grazie ancora una volta per essere stati con noi buon pomeriggio. Grazie a tutti.